Benvenuti alla TG, no, due sono le notizie che campeggiano questa nostra edizione. Il parcheggio per le neomamme, cioè di color rosa, e Catania è sotto scacco delle baby gang. Ma cosa ha detto il primo cittadino del TNL? Sentiamolo. Non è vero, queste le sue dichiarazioni, che il centro storico di Catania è sotto scacco delle baby gang e dei posteggiatori abusivi. Non è vero, questo lo ha dichiarato il primo cittadino mentre passeggiava sotto scorta e il suo autista parcheggiava la sua auto in uno stallo riservato alle autorità. Andiamo alla nostra rassegna stampa. Il primo quotidiano è il Siveto Sera. Parcheggio riservato alle gestanti e neomamme. E questa è la novità della nostra notizia. Infatti in testa noi leggiamo di tutti i colori. Dopo il blu, il giallo e il bianco va di model rosa a chiudere. Gli ausiliari del traffico, per constatare la veridicità, potranno eseguire il test di gravidanza. Mentre il faglio chiama così il titolo centrale, giovane a 2 euro. In pieno centro storico ormai parcheggiare è un'impresa. In compenso però per tutta la durata della manovra si è dottori. Perché? Perché quanti di noi nel parcheggiare sono stati di dire Dottore, avanti un po', un altro poco e via. Con questo è tutto. Ma qual è la canzone da ascoltare per digerire un po' meglio queste notizie? È una canzone dei ribelli. Pugni chiusi. Pugni chiusi. Non ho più speranze. In me c'è la notte. Più nera. Occhi spenti nel buio del mondo. Per chi è di pietra.